Ora, che cosa c'è da dire su questo libro? Prima di tutto che è un libro chiaramente scritto con facilità e felicità da parte dell'autore, che si legge con altrettanta facilità e anche con felicità, anche se probabilmente alla fine qualche rimpianto può nascere nel lettore, rimpianto dico per quelli che sempre più chiaramente ci appaiono come i bei tempi andati. Il libro è costituito da una, certamente un'introduzione, una conclusione, ma insomma il corpo centrale è un breve schizzo delle personalità dei capi dello Stato, provvisori e invece pienamente titolari, che si sono succeduti dal 1946 a oggi, visto che oggi il capo dello Stato non è stato eletto, lo possiamo dire, questi schizzi delle personalità di questi capi dello Stato e cenni penetranti e estremamente competenti, perché Valdospini qui gioca in casa, è un politico di professione, benché abbia una base accademica, è un politico di professione che parla di politica e di una delle ritualità e delle occasioni politiche più alte nella storia repubblicana, appunto l'elezione del capo dello Stato. Gioca in casa e è molto informato, di conseguenza quando parla delle figure dei capi dello Stato non soltanto ce ne dà un ritratto, ma con pochi tratti essenziali ci dice anche qual era il significato politico poi della lotta che ogni volta intercorreva per eleggerlo e del risultato di quella lotta. Devo dire che non c'è assolutamente, a differenza di quello che crediamo noi oggi, non c'è assolutamente niente di male nel fatto che una elezione così importante sia combattuta, i problemi non nascono dal combattimento, dal conflitto politico che la nostra Costituzione prevede come assolutamente fisiologico e per il capo dello Stato e per tutte le attività che si svolgono dentro le istituzioni che sono state ideate e pensate per contenere il conflitto, non per annullare il conflitto. Quando non c'è il conflitto c'è un problema evidentemente. Ora per tornare a noi, in questo libro oltre alla rappresentazione delle figure dei capi dello Stato e delle circostanze in cui sono stati eletti, c'è ogni volta che si parla di una di queste personalità, c'è un appendice, diciamo così, in cui l'autore Valdospini ci parla di se stesso, cioè del contributo prima emotivo, emozionale, quando era giovane, poi quando ha cominciato a fare cadiera politica, contributo sempre più determinante sotto il profilo politico, il suo contributo e i suoi rapporti con quel determinato capo dello Stato. Nei suoi rapporti emerge chiaramente che vi è uno di questi, un paio di questi, gli sono particolarmente vicini, non solo politicamente ma anche umanamente. Parlo di Pertini e di Ciampi. È evidentissimo dalla lettura, direi, l'affetto che Valdospini porta per queste personalità e direi che fra le pagine più riuscite ci sono quelle in cui l'autore Spini ci narra le telefonate che riceveva da Pertini, assolutamente burbero e assolutamente franco nel parlare e dotato di quella carica umana che noi tutti gli abbiamo riconosciuto avendone vissuto il settennato. Una carica umana che, leggendo questo libro si capisce, è un trait d'union fra i tempi di Pertini, gli anni Ottanta, insomma, e il primo socialismo italiano, dove appunto l'elemento della robustezza dei sentimenti e della immediatezza e cordialità delle persone era assolutamente decisivo. E quindi uno degli aspetti per cui questo libro si legge volentieri, ripeto, non è solo la facilità della scrittura e l'attendibilità delle analisi, ma è anche perché questo è una specie di macchina del tempo. Chi legge e chi ha una certa età come chi parla viene riportato ad altri tempi, ad altri stili della politica, ad altre considerazioni, ad altre qualità della politica e di chi nella politica si impegnava. Insomma, è un modo, quello di ripensare ai capi dello Stato e alle loro caratteristiche, ai modi in cui sono stati eletti, è un modo per riavvolgere il film della storia repubblicana, per tornare a riflettere su noi stessi, su come eravamo, su come siamo. Una caratteristica fondamentale quasi sempre presente nella storia delle elezioni dei capi dello Stato è che dalle elezioni, dalla storia delle elezioni, dalle singole dinamiche, alla fine molto spesso esce un risultato che ha la curiosa caratteristica di essere supremamente politico, perché, ripeto, leggere il capo dello Stato è uno degli atti politicamente più significativi che il Parlamento possa porre in essere, di essere dunque un atto altamente politico e venire immediatamente tradotto in un atto più che politico, cioè un atto simbolico. Chi viene eletto capo dello Stato viene quasi, di fatto sempre, da una storia di impegno politico o professionale o, in ogni caso, un impegno politico sviluppatosi nel corso di una carriera che non era immediatamente politica, pensiamo a Ciampi, viene portato, una personalità di parte, viene portata a essere una personalità super partes, che deve tenere le parti della Repubblica e della Costituzione. E questo lo si vede bene. Non è vero che non si può essere stati personaggi politici di primo piano per diventare Presidente della Repubblica. Gronchi lo è stato, Einaudi lo è stato, Saragat lo è stato. Tra l'altro, se c'è stato un personaggio divisivo, è stato Saragat che le faceva le divisioni, le faceva le scissioni. Poi rimediava facendo le confluenze. Ma, insomma, il punto non è non avere mai pestato i piedi a nessuno. Il punto è essere dotati di una storia personale di alta credibilità e di essere poi capaci di fare gli interessi supremi della nazione quando si è Presidente della Repubblica. come non è vero che non c'è mai stato un nesso fra l'elezione del capo dello Stato e gli accadimenti politici di rango governativo che hanno interessato la Stato della Repubblica. ci sono stati e come l'elezione di Leone rispecchiava e era prodromica rispetto a una lieve svolta a destra della politica italiana dopo gli anni del centro-sinistra che erano stati invece annunciati e sottolineati dalle elezioni di Saragat. Ci sono dei nessi. Diciamo così, la caratteristica dei nostri giorni, dell'oggi, non è che esista un nesso fra un andamento della politica a livello governativo e l'elezione del capo dello Stato è che esista praticamente solo quel nesso, cioè che questo nesso sia l'elemento assolutamente dominante e questo perché i partiti nel frattempo hanno perduto potere, perduto coesione e quindi più si perde potere, più si perde coesione, più è bloccato, cioè meno possibilità di azione ci sono fino appunto quasi alla apparente paralisi nella quale ci troviamo oggi. Ecco, c'è sempre stato un nesso fra la divisività della figura e poi il superamento di questa divisività quando la persona è entrata al Quirinale e c'è sempre stato un nesso fra un certo tipo di maggioranza che si formava nell'elezione del capo dello Stato e un orientamento della politica nazionale, ma non più che un orientamento, ecco. E dunque oggi viviamo un tempo un po' diverso rispetto al passato. Ora, io di questo libro raccomando la lettura per alcuni motivi. Primo, perché attraverso questo libro, come abbiamo detto, si torna a capire un po' meglio che cosa è stata la storia dell'Italia repubblicana che non fa mai male in un paese come il nostro che parla tanto di memoria, ma di fatto non ce l'ha la memoria di se stesso. Poi, perché si vede un tragitto storico da una politica davvero forte, da una politica davvero anche gestita da personalità importanti, forti, con grande carattere e grande potere, e non c'è niente di male ad avere grande potere se lo si è guadagnato e se lo si sa usare. E poi perché è un libro in cui l'autore mette a frutto in un modo molto felice tutta la propria competenza, direi la propria biografia. Ci mette quel tocco di raffinatezza nella citazione, quel tocco di retroscena non a livello di pettegolezzo, che soltanto chi è stato davvero interno alle dinamiche può permettersi di usare. E quindi la sua lettura è un buon modo anche per noi, non solo per ripercorrere il nostro passato, ma anche per guardare con occhi un po' meno, diciamo così, da tifosi e un po' più da storici, quello che da oggi pomeriggio comincia, cioè un passaggio non banale della storia repubblicana. Io per il momento mi fermerei e lascerei la parola a Valdospini che ancora una volta ringrazio per aver scritto questo libro di lettura davvero gradevole. Grazie a Carlo Galli, grazie alla Fondazione Gramsci dell'Emilia Romagna, Siriana Soprani e grazie alla Fondazione Barberini che collabora per questo invito. Vedo che è stato un invito felice, siamo a 90 partecipanti e credo che questo sia veramente un successo di questa iniziativa. Io ho scritto questo libro perché diciamo ho voluto sottolineare l'importanza crescente che nel sistema politico istituzionale italiano ha avuto l'istituzione del Presidente della Repubblica. Importanza crescente di cui a volte siamo consapevoli, a volte forse non siamo pienamente consapevoli. Certo oggi, ma ci tornerò su questo, la stiamo vivendo tutta questa importanza. Forse oggi c'è anche un passaggio di sistema. In ogni caso, si potrà vedere attraverso questa carrellata che in generale i Presidenti della Repubblica erano comunque, si discuta la loro azione, persone di alta formazione, persone di una biografia interessante e che erano scelti fra quei personaggi che non erano in prima fila i capi di partito. I capi di partito, con l'eccezione di Saragat, hanno il naturale sbocco come Presidente del Consiglio, nell'azione di governo o comunque come ministri. In generale erano figure che potevano rappresentare, sia che lo si fosse voluto, sia che non le fosse voluto, un equilibrio diverso da quello della semplice indicazione di chi in quel momento dirigeva il governo, dirigeva i partiti. C'è anche nella storia qualcuno molto sfortunato. Io non lo metto in evidenza, ma insomma si vede. Amintore Fanfani, che ci ha provato tante volte, non ci è mai riuscito, o da capo di Franchi Tiratorio o da candidato ufficiale, non ci è mai riuscito. Ma in generale il personaggio viene scelto fra persona di rilievo politico, ma non proprio segretario di partito. Pare che quando Forlani si sia ritirato, nel 92, dopo sei scrutinia, abbia detto ma in fondo nessun segretario a DC ce l'ha mai fatta, perché devo provarci io, perché devo stare io tanto a lungo. Perché questa crescita di influenza del Presidente della Repubblica? Perché prima era effettivamente un arbitro, un regolatore di un sistema istituzionale, interveniva nei momenti, diciamo così, in cui era necessario intervenire. Ma oggi, nelle ultime esperienze, è diventato qualcos'altro. Cioè a dire il personaggio che viene chiamato in causa quando il motore delle istituzioni si imballa, si ferma. E allora il Presidente della Repubblica veste i panni del meccanico, prende gli attrezzi del mestiere e se è bravo rimanda il sistema in avanti. è quello che ha fatto Mattarella quando si è trovato sull'orlo almeno tre volte di elezioni anticipate e è riuscito. Naturalmente c'è chi pensa che avrebbe fatto meglio a far fare elezioni, ma insomma la controprova non c'è mai. Invece è riuscito a mandare avanti la legislatura e quando è arrivata una vicenda drammatica come la pandemia, il vantaggio evidente di questa continuazione c'è stato. Oddio, c'è stato anche un esempio di coabitazione quando Scalfaro si trova a presiedere il primo governo a presiedere durante la formazione del primo governo Berlusconi il governo di centrodestra con un partito come la Lega che si chiamava per l'indipendenza della Padania allora. Come è noto chiede una lettera scritta a Berlusconi un impegno su tre punti Italia una indivisibile la fedeltà all'Europa e un aspetto di critica sociale l'interesse per i giovani e quando Berlusconi gli presenta la lista con Previti il suo avvocato ministro della giustizia Scalfaro la firma e lo dirotta alla difesa. Per la verità questo intervento sulla lista c'è stato anche in altre occasioni per esempio anche se non vado errato Napolitano su Renzi ha fatto qualcosa del genere comunque il tema politico grosso è quando il sistema politico istituzionale si imballa ecco l'importanza del Presidente della Repubblica Italiana viene eletto più o meno lo stesso modo di quello tedesco lo vedrete nel libro ma quello tedesco ha avuto di fatto sempre molta meno influenza e la sua elezione ha creato meno suspense di quella italiana l'altro aspetto e poi vengo all'oggi che ho messo in evidenza è che il numero delle elezioni ora qui siamo in una situazione eccezionale le sanificazioni il modo in cui si vota eccetera ma il numero delle votazioni non è sinonimo di buon funzionamento vi spiego Costica è stato eletto alla prima alla prima votazione e ha finito il settennato contestatissimo in una situazione di grande divisione che lui stesso ha voluto rendere drammatica rinunciando a fare il messaggio di fine dell'anno cioè presentandosi in televisione per il messaggio di fine dell'anno ma dicendo agli italiani la situazione è talmente grave che non ve lo rivolgo e poi dimettendosi prima del tempo Bertini è stato eletto alla sedicesima votazione dopo una lunga battaglia parlamentare ricordava queste battaglie anche a Carlo Galli e poi è stato un presidente realmente unificante è stato davvero il presidente di tutti gli italiani quindi da questo punto di vista nervi saldi e non è detto ecco che la prima votazione sia la migliore semmai io di fronte a quello che sta avvenendo oggi ho una certa nostalgia ricordo che quando fu eletto Gronchi all'inizio per assaggiare diciamo la compattezza della democrazia cristiana e dei suoi alleati le sinistre PC e FSI votarono a compatti Ferruccio Parri si sapeva tutti che Parri non ce l'avrebbe fatta però il cuore dei militanti insomma si scaldava e vibrava per la scheda bianca ho l'impressione che si scaldi meno ma comunque le situazioni sono diverse ecco allora questi tre punti la crescente importanza dell'istituzione del presidente della Repubblica che non è più stato semplicemente un notaio o un uomo di rappresentanza ha dovuto rimettere in moto il sistema con Napolitano con Mattarella in altre situazioni e dall'altro lato anche il valore di queste battaglie parlamentari che sono state spesso avvincenti per l'opinione pubblica oggi perché anche questa vicenda è avvincente intanto perché oggi non è una maggioranza che verifica se stessa pentapartito nel 92 quando non riesce a eleggere il presidente della Repubblica qui la maggioranza non c'è proprio e quindi è ancora più complicato non solo ma io non sviluppo a fondo questo tema però lo faccio presente se noi contiamo i presidenti del Consiglio che al momento della loro funzione della loro entrata in campo non erano parlamentari contiamo ben otto governi allora se l'Italia fosse la Francia non c'è un problema il primo ministro è l'emanazione del presidente della Repubblica poi dopo prende anche la fiducia ma insomma è l'emanazione del presidente della Repubblica ma siccome noi siamo per Costituzione una Repubblica parlamentare converrete con me che questo non è normale questo non è normale e da quello che si può capire noi stiamo vivendo oggi questo trapasso questo momento se l'elezione del presidente della Repubblica sarà un nuovo capitolo di questa debolezza della classe politica che deve ricorrere all'esterno non tanto per il presidente della Repubblica ma anche eventualmente di nuovo per un presidente del Consiglio o se invece sarà e come sarà e in che termini una ripresa diciamo così di forza da parte dei partiti e delle forze e delle forze politiche credo quindi che queste elezioni si situa in questa cronologia intanto per la sua importanza è importante è disvolta come lo sono state altre elezioni e poi certamente per la sua importanza sia per capire dove si va all'unità nazionale alle elezioni anticipate le elezioni anticipate vedono un centro destra compatto non lo vedranno vedranno un centro sinistra compatto non lo vedranno ma anche per il tema di fondo io dico nel libro alla fine c'è solo i due candidati che diciamo così che svettano sugli altri e che sono poi candidati dell'unità nazionale uno è Mattarella ma che non vuole e secondo me fa benissimo ma non volere il secondo è Mario Draghi che poi il 22 dicembre in quella conferenza stampa non da banchieri i banchieri stanno più zitti ha un po' scoperto le sue carte è disponibile è candidato ma l'eventuale elezione di Draghi si porta dietro il fatto che per la prima volta un presidente del Consiglio diventa presidente della Repubblica assume brevemente i poteri il ministro più anziano della fattispecie Renato Brunetta e o c'è una coesione forte delle forze politiche oppure tutto il passaggio Draghi che inizia le consultazioni Draghi che incarica una personalità la personalità che forma il governo il Parlamento che gli deve dare la fiducia perché siamo in Repubblica parlamentare sono passaggi che o c'è dietro una forte coesione politica o se sono lunghi e tormentati in una situazione in cui siamo esposti a livello europeo internazionale sul tema finanziario sul tema economico sul tema della sicurezza sanitaria sono passaggi che rischiano di essere estremamente delicati ecco perché allora questa sottolineatura storica che faccio dell'importanza del Presidente della Repubblica è non solo non smentita ma pienamente confermata da quello che sta avvenendo su cui magari possiamo anche brevemente dibattere è un unicum l'Italia perché guardate in generale il Presidente della Repubblica appassiona i cittadini e i cittadini quando viene eletto da loro in Germania è un'assemblea che si costituisce solo per quell'occasione composta da tutti i membri del Bundestag il Parlamento e da un numero pari di rappresentanti delle regioni che sono qualcosa di più sono i Lender sono qualcosa di più forte e in generale il Presidente della Repubblica tedesco viene scelto in un partito diverso in generale non sempre da quello del cancelliere perché crea un equilibrio nella coalizione che sostiene il cancelliere stesso ora invece per dare stabilità probabilmente verrà confermato un socialdemocratico Steinmeier lo stesso partito del cancelliere Scholz ma in generale è stato un liberale quando governava i democristiani e cose di questo genere però non c'è una suspansione della Repubblica c'è interesse certo un significato politico in Italia c'è è forte e la vivremo anche questa volta Carlo Galli dicevo alludeva anche a questo sistema di vai e vieni che naturalmente cresce con l'età fra la mia esperienza e le elezioni cioè come vivo come ho vissuto l'esperienza dell'elezione del Presidente della Repubblica ce l'ho messo perché questo non è un libro distaccato c'è dell'ironia ma un'ironia che fa parte diciamo di un giusto diciamo non prendersi troppo sul serio è un libro di grande passione perché io sento profondamente questa crisi del sistema politico italiano sento poi la crisi delle ideologie delle forze politiche a cui tradizionalmente mi sono rifatto pensiamo che anche in queste elezioni diciamo così il recinto dei papabili è assolutamente ristretto a persone che abbiano avuto o un'esperienza di centrodestra o un'esperienza di cattolico democratico più in là non si va e non è casuale e non è casuale da questo punto di vista è il frutto anche di una crisi di una certa espressione di un certo politico io non vedo il Presidente della Repubblica come guarigione del sistema però può essere un passo in avanti nella guarigione del sistema e quindi chiunque sia credo che gli andrebbe chiesto di usare dei poteri di persuasione morale perché le forze politiche siano protagoniste magari nello spirito della Costituente di un programma di risanamento istituzionale basato su tre punti essenziali un sistema elettorale meno barocco dell'attuale dei regolamenti parlamentari che non premino il trasformismo il gruppo misto più di cento come attualmente lo premiano e l'attuazione mi sembra matura dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti prima l'ostacolo qual era? che la forza maggiore cioè i grillini erano contrari si dichiaravano non partito al momento in cui il Movimento 5 Stelle senza successo per motivi statutari ma comunque ha chiesto di poter usufruire del 2 per mille avrete notato non molti l'hanno notato che quando si trattò delle scorse elezioni loro fecero le quirinarie si chiamavano così cioè dire consultarono gli iscritti oggi non si sogna nemmeno di consultare gli iscritti saranno i gruppi parlamentari la cabina di regia i loro dirigenti quant'altri che decideranno l'atteggiamento mi sembra matura a questo punto e se noi potessimo dire che le forze politiche consegnano ai cittadini e ai cittadini un piano di risanamento istituzionale che viene effettuato essenziale beh questo potrebbe dare fiducia l'ultimo riferimento alla realtà che faccio è vero che c'è la pandemia è vero che c'è di tutto ma le elezioni suppletive di Roma di domenica scorsa con l'11 virgola qualcosa per cento di partecipanti insomma altro che campanello d'allarme capisco tutto cioè capisco l'eccezionalità del momento ma l'11 virgola qualcosa è veramente poco se si pensa che poi i candidati rappresentavano l'intero arco delle forze delle attuali forze parlamentari grazie veramente per questo e come diceva anche Carlo Galli spero che lo leggano i giovani che quindi non guardino a queste cose come cose misteriose incomprensibili ma ci sentono sotto la lotta politica e ci sentono quanto è importante nella risoluzione dei problemi della società che sono grossi che sono gravissimi quanto è importante il modo in cui nelle istituzioni vengono affrontati vengono eventualmente padroneggiati o non padroneggiati e quindi si interessino alle istituzioni perché fa strettamente parte delle sorti che la società in cui vivono hanno oggi e potranno avere Carlo devi riaccendere bene grazie quindi a Valdospini per il suo contributo la sua testimonianza il suo libro io vorrei vedere se ci sono delle richieste di intervento da parte dei numerosi partecipanti siamo quasi a 100 sì ma non vedendo domande vorrei allora fare io un'osservazione il Presidente della Repubblica il Capo dello Stato ha un potere che mi sembra Giuliano Amato ha definito affisarmonica cioè si estende o si restringe in funzione inversa rispetto alla capacità delle altre istituzioni della Repubblica di funzionare l'ha detto anche Valdo poco fa noi ci troviamo davanti alla situazione nella quale si può dire serenamente che i partiti non hanno più energia politica di conseguenza le istituzioni di una Repubblica parlamentare cioè di una Repubblica che ha bisogno di partiti faticano a produrre ciò che devono produrre cioè decisione politica capacità di orientamento politico l'alternativa al buon funzionamento del sistema che esso sia questo funzionamento sia dovuto a buoni partiti o a buone istituzioni sarebbe anche se non è un'alternativa costituzionale sarebbe la presenza di grandi personalità carismatiche che di fatto coincidono con il sistema politico noi non abbiamo nessuna di queste tre circostanze non abbiamo la grande personalità carismatica non abbiamo partiti forti non abbiamo istituzioni capaci di funzionare in modo non episodico o tra l'altro certamente l'emergenza pandemica è da mettere in conto c'è stata c'è e ha prodotto una concentrazione degli sforzi della politica solo in un ambito appunto quello sanitario a questo punto la elezione del capo dello Stato diventa effettivamente un passaggio viene offerto ai cittadini come una un grande appassionante videogioco ma è molto di più ecco è molto di più cioè è veramente un un passaggio in cui l'Italia si gioca molto anche perché nel frattempo il capo dello Stato oltre ad essere diventato il dominus della situazione politica io quando ero in Parlamento l'ho vissuto ho visto ho visto la politica italiana io come tanti altri sprofondare in un baratro ed essere afferrata per i capelli da giorgio napolitano cioè lì c'era davvero il dominus della politica senza essere un un leader carismatico era però una persona con grandissima esperienza grandissima lealtà repubblicana e costituzionale che bene o male ha salvato l'Italia da chissà quale mali passi ora adesso il capo dello Stato in Italia è diventato non soltanto non dico un attore politico ma certamente un regista ecco e per di più è diventato il garante dell'Italia davanti alle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte ed essenzialmente davanti all'Unione Europea ma anche agli Stati Uniti cioè come si dice quando devono telefonare telefonano al capo dello Stato allora è una personalità che viene investita di non dico di un potere investita di un ruolo di una responsabilità altissima ecco tanto che come noi vediamo adesso sostanzialmente è dalla elezione del capo dello Stato che dipende a catena una serie di circostanze strettamente politiche come strettamente politiche come la qualità del prossimo governo come il fatto che ci sia un governo che dura fino alla fine naturale della legislatura o invece un governo che porta immediatamente a nuove elezioni dal tipo dalla qualità delle elezioni e delle dinamiche che porteranno al capo dello Stato dipenderà anche la capacità o la non capacità dei partiti di fare la riforma elettorale senza la quale la per me sciagurata riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari avrà effetti altamente più negativi di quelli che avrà comunque insomma è diventato un passaggio straordinariamente importante direi decisivo viene spettacolarizzato ma in realtà è drammatico ecco è drammatico perché davvero stiamo raschiando il fondo del barile della capacità politica del sistema politico italiano dimmi vado no dicevo è banale ripeterlo ma il motivo è che è una istituzione che salvo incidenti di percorso è sicura di durare sette anni esattamente in questa legislatura abbiamo già avuto il governo di conte 1 conte 2 e Draghi Mattarella in sette anni si è visto passare davanti cinque presidenti del consiglio perché vanno aggiunti Lorenzi e Gentiloni è chiaro che una personalità che ha salvo incidenti di percorso che non si augura a nessuno sette anni di stabilità a fronte di governi che durano se va bene un anno e qualche cosa un anno poco più ha evidentemente un potere un ruolo che gli altri non hanno è certo mi piace che Valdo abbia sottolineato incidentalmente il fatto che la presunta instabilità della prima repubblica alla quale si contrapponeva la stabilità della seconda è veramente una presunzione perché la prima repubblica come Valdo sa meglio di me era stabilissima era qualche cosa di granitico addirittura cambiavano si cambiavano i ruoli di un certo numero di persone che appartenevano a un certo dirigente assolutamente salvo ecco la seconda repubblica da questo punto di vista ha davvero barcollato comunque sia volevo dire che abbiamo una domanda che leggo alla quale fornisco un minimo di risposta io ma poi cedo la parola su questa domanda a Valdo Spini perché lo coinvolge perché è una questione che ha sollevato lui la domanda viene da Gianluca Longagnani e dice questo vorrei chiedere un parere sulla tendenza a chiamare in causa nomi oggi appartenenti in gran parte al mondo cattolico è un segnale di regolare continuità con la storia delle elezioni del Presidente della Repubblica o è invece un segnale di una più profonda pervasività di una tendenza conservatrice grazie allora io da parte mia dico attenzione non è vero che uno perché è cattolico sia conservatore a parte che ci sono stati conservatori cattolici come Scalfaro che hanno dimostrato una presenza politica talmente forte da essere diciamo altamente progressivi nella situazione allora data ecco ma a parte questo diciamo così non della serie moriremo democristiani ma insomma la crisi dell'ideologia c'è stata per quanto riguarda il mondo cattolico c'è stata la crisi del suo partito certamente cioè non c'è più la democrazia cristiana ma una capacità cattolica di far politica e di convocare in ogni caso personalità politicamente efficaci con quel tipo di cultura politica questa c'è ancora ecco questa c'è ancora comunque sia a questo punto mi piace dare la parola a Rando Spini che sicuramente su questo avrà delle osservazioni puntuali volentieri a parte che condivido le cose che hai detto metterei una ragione addizionale si è come interrotto il meccanismo di formazione di selezione nel tempo di generazioni di leadership politica si è interrotta per la crisi dei partiti si è interrotto anche perché a un certo punto è prevalza questa ideologia della rottamazione per cui sembrava che se uno Pertini stava alla camera da sempre e nessuno si sognava di dire che era bene contargli il numero dei mandati e mandarlo via si è affermata invece la tendenza che diciamo non ci devono essere più punti di riferimento bisognava assolutamente ruotare fare ruotazione in questa interruzione diciamo così di selezione della classe dirigente il mondo cattolico aveva dalla sua non solo una capacità politica di rigenerarsi quando diciamo quando il mondo cattolico ha avvertito che tutte le formazioni come il partito popolare la margherita prendevano sì percentuali rispettabilissime ma non consistenti ha pensato bene di giocare invece l'avventura del partito unico del partito democratico e la giocata con successo ma c'è anche un'altra ragione cioè che nel mondo cattolico c'è una forte partecipazione sociale mi spiego il nome che viene fatto che veniva fatto come un eventuale candidato non ho capito se è di bandiera o non di bandiera comunque quello del professore Andrea Riccardi il fondatore il presidente onorario della comunità di Sant'Egidio qui non siamo in una cosa della democrazia cristiana siamo in un'associazione estremamente benemerita che partendo da un punto di vista ecclesiale ha giocato un ruolo sia nella emigrazione sia con Monsignor Di Liegro nelle periferie nelle marginazioni cioè quello che è mancato poi ai partiti via via che si sono rinsecchiti è anche la capacità di una presenza nel sociale e quindi come facevano invece i vecchi socialisti che si ricordava prima di essere non solo su certe posizioni ideologiche ma di organizzare concretamente poi se possibile le risposte ai bisogni della gente quindi direi che c'è da un lato conta la vicenda del partito democratico che ha visto e qui ci vorrebbe veramente molte ore per parlarne ma comunque io rinvio un mio libro che si chiama vent'anni dopo la Bolognina che ha visto poi alla fine un prevalere della classe dirigente di origine o democristiana o cattolica sulla classe dirigente di origine ex PC per noi socialisti c'era proprio vietata ai minori di anni di anni 18 quindi non c'era proprio partito ma di fatto ha visto prevalere ma c'è l'aspetto della robustezza dell'organizzazione sociale in più c'è un papa che è più a sinistra di tanti esponenti di sinistra e questo credo e questo va messo in conto Benedetto XVI era una cosa e Francesco era un'altra e naturalmente questo fa sì che tanti guardano all'enciclica sull'ambiente ha dato sì le posizioni sull'immigrazione molto ferme molto dure le posizioni sulla pace questo senz'altro certamente ha avvantaggiato certo una personalità come Riccardi ha un suo iter una personalità come Casini ne avrebbe un'altra qui nel caso di Casini siamo di fronte al giovane che è stato allevato da Arnaldo Forlani qui ci sarebbe davvero una continuità della democrazia cristiana però adesso noi siamo impegnati su un altro fronte io ho un po' lamentato che forse appunto qualche candidato di bandiera poteva essere portato al voto faceva parte anche questo forse di un rafforzamento in ogni caso qui il tema è di impedire ad un centrodestra che dice di avere la maggioranza nel paese ma non ce l'ha dell'attuale assemblea dei parlamentari di potere diciamo così sul piano della debolezza degli altri di poter affermare fin d'ora una maggioranza di centrodestra magari sciogliere le camere e portare in questa direzione qui decisivo è un corpo molto grande molto più grande di quello degli stessi grandi elettori del partito democratico che è il movimento 5 stelle e qui c'è naturalmente un grande punto interrogativo su come questo movimento si muoverà se si muoverà compatto o come si muoveranno parti di esso questo se non ci dovesse essere un accordo tra le maggiori forze politiche questa variabile giocherà e giocherà moltissimo grazie grazie valdo ci sono ancora delle domande le leggo le leggo perché venne una di due di Maria Teresa Martini la prima diceva può entrare di più su qualche dettaglio per quanto riguarda il presidente Scalfaro e Cossiga e poi una seconda sempre della medesima persona dice possiamo aspettarci un presidente che sostenga la pace e non la guerra in un momento così delicato siamo un paese di frontiera e il presidente è il capo dell'esercito poi ancora abbiamo i partiti dicono di volere un presidente di alto livello questo non riesco a capire chi sia che scrive i partiti dicono di volere un presidente di alto livello nazionale e internazionale ma sono insinceri l'unico sarebbe Draghi ma la maggioranza sembra non volerlo perché rappresenterebbe una loro sconfitta o una sfida forte a rinnovarsi ad elevarsi che cosa ne pensate poi ancora Lucia Liliana Brambati dice questa lezione mi preoccupa molto anche dai vostri dialoghi non ho captato un sentimento rassicurante in merito onestamente analizzando i nomi dei probabili elegibili emerge o non emerge una figura che rappresenta in modo degno per etica e cultura il nuovo presidente di cui abbiamo necessità due parole poi di nuovo la parola a Valdospini sì qui c'è proprio questa idea che dal capo dello Stato dal nuovo capo dello Stato debba dipendere il rinnovamento del paese il che è impossibile da una parte dall'altra invece è un buon auspicio nel senso che forse si forma la convinzione nel paese che se non c'è uno scatto di reni questo paese ha davanti a sé un destino di decadenza lunga finché vogliamo ma questo è per cui che questo sia un'occasione anche simbolica per riprendere in mano il nostro destino politico se questa fosse una convinzione diffusa sarebbe una gran bella cosa per quanto riguarda la guerra io dico questo poi adesso do subito la parola a Valdospini nessuno la vuole nessuno la vuole non penso che vi sia alcuna persona in questo momento con responsabilità politica che pensi a una guerra meno che mai da parte italiana ecco diciamo piuttosto che è vero che siamo talmente attenti alla elezione del capo dello Stato che non ci rendiamo conto che ciò che ci circonda sotto il profilo geopolitico è sempre più un'ebollizione cioè che anche da questo punto di vista le buone vecchie certezze della prima repubblica sono veramente venute meno leggo prima di dare la parola a Valdospini vedo che ci sono quattro nuovi messaggi li leggo poi davvero mi taccio Antonio Travaglieni scrive l'articolo 49 della Costituzione dunque dice che sono importanti i veri partiti per il bene della democrazia parlamentare rappresentativa ma a questo punto non diventa fondamentale la formazione e la selezione della classe dirigente e quindi il costo della politica a carico della comunità per il bene stesso della democrazia direi assolutamente sì bisogna essere all'altezza classi politiche all'altezza di quello che vuole la Costituzione non ce n'è ma bisogna pur cominciare da qualche parte a costruirla e certamente dentro i partiti bisogna muoversi in questa direzione un altro Diego Arias buon pomeriggio avrei una domanda quali caratteristiche portano i cittadini a trovare nel Presidente una figura carismatica da seguire a cui aggrapparsi in momenti di crisi il Presidente italiano non deve essere una persona carismatica se poi lo è meglio ma insomma non necessariamente qualcuno dice ma davvero Draghi sta facendo così bene io qui intaccio un altro Agna Pignatti i contratti continuano ad essere precari dell'ambiente per quanto riguarda l'ambiente si parla di nucleare come dire non sta facendo poi tanto bene un spettatore anonimo scrive non credete che un altro elemento che contribuisce a complicare ulteriormente il quadro sia la grande distanza che ancora oggi si percepisce tra buona parte della destra e i valori costituzionali sì anche questo da prima finché la costituzione repubblicana non sarà davvero vissuta da tutti gli attori politici come il documento che delimita il perimetro della democrazia in Italia la sensazione di possibili minacce incondente resta Sergio Casetta dice come si può interpretare la crisi del sistema politico rispetto all'equilibrio costituzionale i presidenti del consiglio nominati al di fuori del Parlamento non hanno contribuito a peggiorare questo precario equilibrio io sinceramente non credo che il fatto che ci sia un presidente al di fuori del Parlamento sia un problema costituzionale il problema costituzionale se il governo non ha la fiducia del Parlamento ma certamente è un problema politico perché vuol dire che il ceto politico non è in grado di esprimere una personalità ma questo è successo ormai da parecchi anni e ce lo dobbiamo tenere è un problema e sarebbe già importante prenderne consapevolezza Claudia Musole si scrive e con questo finisco vorrei chiedere vostro parere sulle tante posizioni più o meno sincere che chiedono una donna al Quirinale e infine Sergio Cerutti si può prevedere un riallineamento tra la divisione dei poteri del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio sancita dalla Costituzione alla luce di una rimodernizzazione dei rapporti tra le istituzioni che vuol dire a quel che capisco è una persona che sta introducendo il tema del presidenzialismo o del semipresidenzialismo Paola Patuelli che saluto dice qualche anno fa ravenne dopo un incontro pubblico che vide la preziosa presenza di Carlo Galli ci dicemmo non pubblicamente internos la sinistra dovrà attraversare un lungo deserto pieno di incognite credo sia ancora così Draghi Presidente del Consiglio e poi Presidente della Repubblica è un passaggio lineare è un passaggio ambiguo bene mi fermo e come era evidente abbiamo suscitato un mucchio di domande e di sollecitazioni e sono lieto di dare la parola a Valdo Spign a questo riguardo ma intanto io sono aiutato dal fatto che condivido le cose che in genere ha risposto Carlo Galli è interessantissimo questo dibattito e dimostra appunto che si sta parlando certo di costituzione di istituzioni diciamo di calligrafia costituzionale istituzionale ma sotto c'è veramente la sostanza cioè qual è il destino del nostro paese nel prossimo periodo però prima mi è stata rivolta una domanda personale cioè Scalfaro e Cossiga io ho avuto ottimi rapporti con Scalfaro non nego che io sono diventato sottosegretario all'interno con Scalfaro ministro quasi all'improvviso nel novembre 1986 e non nego che avevo una gran FIFA quando l'ho incontrato perché lui cattolico aveva la fama di integralista io protestante lui era stato contro il centrosinistra sottosegretario alla presidenza del consiglio con Scelba e io ho vissuto nella fase del primo centrosinistra la fase del mio intervento in politica della mia giovinezza in politica insomma pensavo al massimo a un rapporto diciamo cordiale ma formale e invece trovai una persona profondamente cambiata sia nelle concezioni religiose perché era assolutamente aver permeato la lezione del pluralismo poi qui non ci sono giornalisti immagino per esempio Scalfaro aveva preso l'abitudine oltre a mantenere la sua assoluta fedeltà alla chiesa cattolica aveva preso l'abitudine di fare una volta al mese una preghiera anche con un pastore protestante questa è una cosa che non si sa ma che io venne evidentemente a sapere quando vide che io lottavo contro i brogli elettorali eccetera mi dette assolutamente mano ma soprattutto a quell'epoca la DC poteva tutto così facciamo anche un sorriso il ministro dell'interno era obbligatoriamente da Romita in poi democristiano lo è stato fino a Maroni 94 ma anche all'interno dei sottosegretari al sottosegretario democristiano toccava la polizia al secondo sottosegretario democristiano gli enti locali siccome allora ancora non c'era stato il titolo quinto contava la baracca non c'erano ancora le regioni così forti al socialista i vigili del fuoco e io ci aggiunsi il servizio elettorale e al liberale perché c'era anche un liberale il personale o poco più o quasi niente insomma diciamo ecco allora Scalforo rompendo questa distribuzione dei compiti mi portava ai vertici antimafia mi fece riconoscere Falcone mi ha dato una formazione su questo piano poi quando io per breve tempo sono stato sottosegretario agli esteri l'ho accompagnato in due missioni importanti una in Austria che era la prima visita di un capo di stato italiano dal tempo della triplice alleanza per tutte le difficoltà che ora non dico ma insomma che sono noti e l'altra invece un vertice a Downey Street con John Major cioè il primo ministro conservatore che era successo alla Thatcher ma che a differenza della Thatcher era un europeista ci sono stati sia Ted Warheads che Major anche dei primi ministri conservatori favorevoli all'Europa quindi era un vertice era un vertice molto importante insomma ho potuto avere una consuetudine che è stata per me un grande arricchimento perché come si dice come diceva Manzoni a proposito di un personaggio che non nomino poche idee ma chiare Scalfaro non era magari un raffinato politico però la Costituzione e il suo funzionamento era per lui veramente la stella polare e la difesa con forza durante quel periodo di coabitazione a cui alludevo e pertanto come alludeva anche Carlo Galli un uomo che veniva dalla destra democristiana è stato poi la bestia nera del centro-destra di Berlusconi per quanto riguarda Cossiga che è ovviamente uomo contestato per tutto quello che ha significato gli do comunque atto di avere capito quello che in generale gli altri non avevano capito e cioè che l'accaduto del muro di Berlino modificava profondamente il sistema politico italiano quando nasce il governo Andreotti VII che è l'ultimo della no l'ultimo forse amato uno diciamo l'ultimo della legislatura è il governo peggiore secondo me della prima repubblica il governo Andreotti VII io mi trovo nelle condizioni di potergli come leggerete nel libro di potergli dire Presidente ma cosa ne pensi di questo governo e lui mi risponde con una frase finissima questo governo potrebbe avere come programma sopra la panca la capra campa sotto la panca la capra crepa cioè dire è stato fatto che poi era la televisione a quell'epoca diciamolo francamente e aggiunse la verità è che tutti i partiti hanno avuto paura delle elezioni anticipate anche il tuo si riferiva al PSI nel mio caso ma non hanno capito che dopo sarà peggio e il dopo in particolare per il PSI per il pentapartito sarebbe stato il referendum del 1991 la prima botta diciamo così al sistema dei partiti della prima repubblica e poi nel 92 il crollo della sistema è interessante vedere che Cossiga va al Quirinale con una manovra di partito perfetta che fa Dimita Dimita riesce a cuscire un accordo per portarlo al primo turno magari c'era dei pasticci nella DC Mastella ha testimoniato che bruciarono le schede della votazione interna non so se conoscete che non c'è nel mio libro ci fu una votazione interna alla DC tormentata diciamo così per cui Mastella che era uno dei scrutatori pensò bene di bruciare le schede di questa votazione comunque la manovra di partito di Dimita fu perfetta solo che non era più perfetto il sistema e nonostante che Cossiga fosse stato eletto al primo turno con i due terzi ed fosse il presidente più giovane della storia della Repubblica a 56 anni le cose poi finirono in quel modo diciamo così divisivo e di grande contenzioso fra lui una parte dello schieramento politico a cui ho accennato rispondere a tutto poi sul resto cioè è chiaro che Draghi è un governo di salvezza nazionale non un governo riformatore di centro-sinistra questo è chiaro e da questo punto di vista non è che chi pensa a un'iniziativa riformatrice sul campo dell'ambiente e così via possa dirsi soddisfatto del tutto è impossibile però il terreno di scontro o di incontro o di scontro del terreno dialettico del prossimo periodo è effettivamente il piano nazionale di ripresa e di resilienza io vedo un'analogia anche qui adesso faccio un po' l'anziano col passato nel 62 si voleva utilizzare i frutti del boom di allora per risolvere gli squilibri economici territoriali sociali geografici mezzogiorno dell'Italia dell'ora e naturalmente rinvio su questo come è andata oggi si vuole in qualche modo si devono affrontare squilibri in qualche modo paragonabili ma con una differenza in positivo che i soldi per fare le riforme i soldi per intervenire ci sarebbero e qui credo si giochi veramente la partita del prossimo futuro perché il centro-destra ha dovuto cambiare il suo atteggiamento nei confronti dell'Europa ha dovuto cambiare il suo atteggiamento quindi nei confronti della oggi sarebbe concepibile una campagna elettorale come quella su questo questo Parlamento veramente eletto in una situazione lontana anni luce da quella di oggi una campagna elettorale come quella del 2018 condotto da i 5 Stelle condotto dalla Lega ricordiamoci che il leader dei 5 Stelle Di Maio va a solidarizzare con i gilet gialli in Francia in quel periodo quindi pensate quanto è cambiata quanto è cambiata la situazione però credo che effettivamente il tema sia questo come viene le riforme sono davvero quelle che ci chiede l'Europa o forse ce ne sarebbe anche qualcun'altra da fare e questi squilibri le disuguaglianze sociali il mezzogiorno che rischia di stare indietro rispetto al PNRL e così via siamo in grado di affrontarli ecco qui io mi auguro una cosa è un aspicio che faccio sento molto parlare che se funziona l'operazione Draghi ci sarà un rimpasso di governo che vedrà una maggiore partecipazione di politici il mio augurio è che questa partecipazione di politici venga giocata su questo piano in particolare quelli del centro-sinistra cioè per fare davvero un PNRR che sia di riforma strutturale del nostro paese e se si accorgono che non si può fare ma lasci nel posto perché questa iniziativa questa alternativa va in qualche modo mantenuta quindi questo obbliga in qualche modo il centro-sinistra a essere centro-sinistra di governo perché cosa fai? prendi e lasci giocare questa partita al centro-destra lo fai identificare in Draghi io tra l'altro mi aspettavo come tutti e quando Berlusconi si è ritirato avrebbe fatto il nome di Draghi e avrebbe in questo modo dato l'imprinting diciamo meglio così meglio che non l'abbia fatto se poi dovrà essere lui però non è un'artita che si possa giocare senza ambizioni di essere centro-sinistra e sinistra di governo però essere capace di dare un contenuto realmente di riforma del nostro paese in questa situazione e quindi di legare la partecipazione al governo a questo e anche questo è un modo di preparare poi una campagna elettorale che è alle porte comunque sia alle porte quella del 2023 con una forte identità e con una forte capacità che la formazione del Partito Democratico non avrebbe risolto da sola il problema di una maggioranza lo si vede dal fatto che alla destra cioè al centro continuano a nascere nuove formazioni con l'ambizione di poter condizionare il futuro gioco fra centro-destra e centro-sinistra quindi vuol dire che la formazione del Partito Democratico per sé non ha risolto il problema di questa maggioranza dal centro al centro-sinistra è un problema che probabilmente si ricollega però se si andasse a un sistema elettorale coerente o un maggioritario vero non un terzo di maggioritario ma un maggioritario vero oppure a un sistema tedesco proporzionale ma col 5% e con la mozione di fiducia costruttiva si metterebbe su più basi più solide il nostro sistema il Presidente della Repubblica non può cambiare le leggi cambiare la legge elettorale però può creare intanto il modo in cui verrà fuori il modo in cui verrà fuori si proietta sul dopo potrà creare diciamo così la situazione positiva per muoversi in questa direzione da questo punto di vista penso che gli auguri sono certamente a letta speranza e in un certo senso anche a Conte di sapersi muovere e quindi dare anche qui l'impressione di una forza non di risulta ma che è protagonista anche di questa vicenda ho visto che qualcuno chiedeva oggi chiedeva ora il parere sulla rinuncia di Berlusconi e su quello fatto successivamente l'ho già in parte detto la rinuncia era nei fatti a parte che non era elegante dire io cerco uno per uno i deputati o i grandi elettori che mi daranno la maggioranza dico elegante per dire per essere buenevolo specialmente visto che erano 60 insomma è un bel numero quindi la rinuncia era nei fatti tutti però pensavano che lui avrebbe rinunciato cercando di fare il kingmaker additando la soluzione e invece la sua rinuncia dal punto di vista del centro-destra ha complicato la situazione perché ha impedito a quelli che volevano andare su Draghi di andarci almeno immediatamente perché il partito che vuole andare su Draghi o contrastare Draghi è trasversale fra centro-sinistra e centro-destra è trasversale perché riguarda come veniva detto giustamente le sorti del governo che sono quelle determinanti io mi auguro che queste risposte possano quando non hai risposto sulle donne è giusto perché è un punto debole ora io rispondo da politico sono il primo firmatario propugnatore della legge che ha messo le donne nelle forze armate mi prendevano tutti in giro ma ho rotto l'ultima barriera della partecipazione delle donne alla pubblica amministrazione mi dispiace di non essere in Parlamento per votare eventualmente un candidato femminile però attenzione non esiste la categoria donna esiste la persona allora uno deve dire mi va bene la Cartavia mi va bene la Bindi mi va bene altre figure che si sono da Alberti Casellati altre figure perché diciamo così non si può dire voto una donna non si può fare un voto di categoria però che in Italia si sia ancora indietro rispetto a una effettiva diciamo un'effettiva non solo partecipazione ma un effettivo protagonismo delle donne questo è senz'altro vero dei passi avanti sono stati fatti ricordo che in questa assemblea di 1800 che diventeranno 1900 perché pare che sostituiscono quello che è morto poverino le donne sono 350 circa e fra i 58 rappresentanti delle regioni si contano sulle dita di due mani perché quando si deve fare tre rappresentanti delle regioni è facile far fuori è difficile dare spazio a una donna e far fuori quindi la domanda anche se non ha una risposta immediata perché ci vuole la persona la domanda è assolutamente calzante e credo che ponga davvero un problema di adeguamento di modernizzazione al sistema politico italiano se si guarda in Europa abbiamo la presidente della commissione che è una donna ora anche il presidente dopo il povero Fassassoli che tutti rimpiangiamo una donna è la presidente del Parlamento europeo insomma mi sembra che certe barriere siano state rotte ed è giusto e bene che vengano rotte anche in Italia un'ultima cosa vedo c'era una una domanda che diceva ma finché la destra non sarà del tutto interna alla Costituzione ci sarà una situazione di ansietà davanti alla idea che il capo dello Stato sia l'espressione di una forza di destra io per me direi solo questo abbiamo avuto il capo del governo per tre volte espressione di forte di destra e dopotutto il potere reale è più forte o era più forte nel capo del governo ma comunque c'è d'oltre la parola no no è una preoccupazione giustissima devo dire che gli avvenimenti degli ultimi tempi come dicevo prima hanno dato più ragione a noi cioè una campagna elettorale come quella che caratterizzò le elezioni del 2018 diciamo anti Europa una rottura di continuità con la continuità dell'istituzionale e così via credo che oggi non sarebbe possibile ma le elementi di preoccupazione sono forti intanto una strutturale ci sono dei movimenti che non sono proprio di poco conto vedi l'assalto alla sede della CGL che si è verificata e che vanno al di là degli stessi partiti di centro-destra di cui stiamo discutendo oggi come dire la fedeltà allo spirito della Costituzione e questo dipende da una mancata educazione che abbiamo fatto una rottura di trasmissione di valori dobbiamo assolutamente dedicarci le nostre energie dedicarci veramente tanto atteggiamento ma per quanto riguarda l'espressione del presidente beh c'è presidente di centro-destra e presidente di centro-destra c'è chi potrebbe dare per le sue caratteristiche per un percorso diciamo delle garanzie in questa direzione c'è chi le dà meno e tuttavia non è che il centro-sinistra mi sembra che sia giusto quello che il centro-sinistra stia facendo non è che perché c'è una striminzita maggioranza relativa di centro-destra poi secondo Dalimonte non c'è ma comunque sono varie teorie non è perché non c'è il centro-destra ha automaticamente diritto e almeno per ora il centro-sinistra ha bocciato l'idea del centro-destra di dire io vi do una rosa e scegliete la spina all'interno di questa rosa mi sembra che quest'idea il centro-sinistra l'abbia bocciata ebbe detto no ci si siede tutto intorno a un tavolo e si vede di trovare una personalità che possa davvero esprimere questi valori non è detto che non sia di parte lo diceva Carlo Galli all'inizio della conversazione se c'era un socialista intemerato un antifascista coerente fino al punto vi ricordate il suo atteggiamento su Mussolini di sostenermi assolutamente la fucilazione era Sandro Pertini però fece un tale riuscì davvero a essere il presidente di tutti gli italiani e non voglio scandalizzare nessuno ma ricordo la frase con cui Giorgio Almirante commentò il suo discorso lo commentò con queste parole ci ha costretti ad applaudirlo sì sto leggendo un'altra cioè emerge un altro tema quello quello del del semipresidenzialismo che viene a me non mi pare di capire dalla dalla chat che viene visto come un pericolo allora io da parte mia dico il semipresidenzialismo non ha in sé nulla di pericoloso primo secondo per arrivare al semipresidenzialismo bisogna una robustissima revisione della Costituzione che nessunissima forza politica è in grado neanche minimamente di proporre ecco devo dire che appunto era uscito qualche settimana fa il tema del presidenzialismo di fa o semipresidenzialismo di fatto mi sembra che insomma sia un falso problema primo perché non è possibile sotto il profilo costituzionale secondo perché il problema del nostro paese è meno istituzionale e più politico cioè è un problema di capacità o mancanza di capacità della nostra società di esprimere anche un ceto pulito la nostra società esprime ceti accademici discreti esprime ceti sportivi eccellenti fa fatica ceti artistici eccellenti fa fatica esprimere un ceto politico perché probabilmente ha perduto fiducia nel fatto che attraverso la politica si possano cambiare in meglio le cose che non vanno bene ecco se non c'è questa idea che la politica serve a qualche cosa noi non avremo mai una soluzione dei nostri problemi politici e anche se cambiassimo la costituzione cosa che non riusciamo a fare non non le risolveremmo quei problemi ecco cioè è prima di tutto una questione di ritrovare la fiducia in noi stessi e nella politica che noi vogliamo esprimere ora non l'abbiamo più questa fiducia c'è stata una fase della nostra storia che viene fuori benissimo dal libro di Waldo Speer una fase della nostra storia in cui avevamo l'idea che grazie alla politica o si stava meglio o se era l'opposizione si sarebbe potuto stare meglio ecco adesso invece abbiamo l'idea che comunque vadano le cose nella politica la società va avanti per i fatti suoi e non va avanti per il meglio ecco bisogna riuscire a cambiare questo questo mood bisogna tornare a dare potere alla politica che non c'è là non a caso buona parte delle opposizioni a Draghi nascono anche le posizioni di Dalena nascono dal fatto che i politici dicono ma non è possibile che deve essere un banchiere a portare l'Italia fuori da una crisi a questo scopo ci vuole la politica che poi questo il che in linea di principio è giusto ma se la politica non è capace di fare questa operazione di uscita da una crisi che venga chiunque sia capace di farla ecco ma anche qui mi taccio e do la parola a Valdo beh se la politica c'è che batta un colpo anche ora in queste ore perché diciamo un certo fermo all'ipotesi Draghi è avvenuto da parte dei partiti però se questo fosse un fermo i partiti o le forze politiche o parte di essi dovrebbero anche dimostrare di sapere unirsi su un altro nome al momento ancora questo non è al momento ancora questo non è avvenuto così hai risposto anche a una chat che diceva ma perché la sinistra non tira fuori un nome facile perché non è capace ma poi perché è chiarissimo che non ci sarebbe l'unità fra PD e 5 stelle probabilmente gli uni pensano a un nome gli altri pensano a un altro nome per quanto riguarda il semipresidenzialismo confesso che durante il fulgore dell'età di Mitterrand io ho stato anch'io affascinato dall'idea di introdurre in Francia un semipresidenzialismo in Italia un semipresidenzialismo che come in Francia fosse capace di dare quell'alternanza che da noi disperatamente non si riusciva ad avere però le vicende che io metto in evidenza nel libro dimostrano e come diceva Carlo Galli Carlo Galli richiamava che Giuliano Amato diceva in fondo i poteri del Presidente della Repubblica italiana sono a fisa armonica Sabino Cassese in quei bei due volumi del Mulino se non vado errato sul Presidente della Repubblica dice la Costituzione italiana si è dimostrata abbastanza flessibile da permettere anche un interventismo del Presidente della Repubblica quando questo è stato richiesto dalla situazione devo dire che nella Costituzione italiana un Presidente della Repubblica che abbia naturalmente se parlato di Napolitano una forza politica una esperienza politica una forza politica ha la possibilità di intervenire positivamente quindi il dilemma diciamo così semipresidenzialismo Repubblica parlamentare è meno diciamo meno acuto di quello che si poteva pensare io oggi darei veramente la prevalenza al problema di una riforma elettorale coerente perché queste cose in parte proporzionale l'ultima volta avevamo tre forze politiche più o meno di analoga forza cioè dire 5 Stelle che erano un po' più forti degli altri PD alleati e centrodestra con il risultato di creare quell'ingovernabilità che ha creato prima il governo giallo-verde poi il governo giallo-rosso e poi il governo di salvezza nazionale io darei francamente la priorità so che in Italia il semipresidenzialismo il presidenzialismo è visto come fine della democrazia ma tutto dipende dal contesto come diceva Carlo Galli se lo fai sul serio implica una grande riforma costituzionale che chissà quanto tempo ci vorrebbe per fare in America c'è un presidente che sembra onnipotente ma non è onnipotente tant'è vero che al povero Biden il Senato per via di un dissidente di un dissidente democratico purtroppo di origine italiana il Senato ha bloccato la legge per fare effettivamente votare tutti o blocca la legge sull'ambiente quindi diciamo l'elezione diretta di un presidente della Repubblica implicerebbe un sistema di pesi e contrapesi che porterebbe se fatto sul serio ad una vera riforma costituzionale oggi teniamoci quello che abbiamo cioè dire un presidente della Repubblica che ha dei poteri abbastanza flessibili da potergli consentire di venire in soccorso al sistema politico quando questo si imballa quando questo si ferma ma cerchiamo di sistemare davvero altrimenti con anche qui cito Carlo Galli con la riduzione del numero dei parlamentari senza riforma del sistema elettorale avremo un Parlamento prossimo che sarà difficilissimo governare l'Italia è sempre stata una Repubblica scusate è sempre stato un sistema parlamentare anche ai tempi del Regno insomma nella nostra nel DNA della nostra politica c'è il Parlamento deve funzionare il Parlamento e perché il Parlamento funziona devono funzionare i partiti e perché i partiti funzionino la società deve riconoscersi in essi deve credere la società deve credere che sia opportuno che esistano partiti ai quali affidare idee di cambiamento o di non cambiamento della società giustissimo solo che i partiti devono aprirsi ecco perché l'articolo 49 della Costituzione oggi i partiti quale potere hanno ancora? quello di fare le liste quello ce l'hanno se possono decidere se cooptare quel professore o cacciare via quell'altro ogni riferimento a cose e persone esistenti è puramente casuale prendere quel man questo potere di fare le liste ce l'hanno ancora però di fronte ad una partecipazione interna sempre più esangue nella mia città Firenze il numero di circoli del Partito Democratico non solo non arriva al numero delle sezioni del PC che era organizzatissimo ma non arriva nemmeno al numero delle sezioni del Partito Socialista che aveva il 12% è assolutamente ridotta la partecipazione politica si devono riaprire alla partecipazione politica e questo naturalmente implica non soltanto le primarie che a volte sono un fattore democratico a volte sono soltanto per confermare delle decisioni prese ma effettivamente riprendere una vita interna che consente agli iscritti e alle loro organizzazioni di poter davvero pesare sulle scelte programmatiche sulla scelta della classe dirigente e così via ma qui stiamo entrando nel sogno spero di no intanto cerchiamo di tornare alla dura realtà e di avere un buon Presidente della Repubblica o almeno un soddisfacente Presidente soddisfacente Presidente della Repubblica e un sai perché ci sia buona politica ci deve essere anche una buona opinione pubblica e dunque un buon sistema massmediatico insomma c'è tutta una serie di condizioni che nasce perché ci siano ci vuole una precondizione fondamentale la ripeto perché è decisiva ci vuole la fiducia nel fatto che avere delle opinioni politiche è una cosa indispensabile credere che la politica possa cambiare le cose in un senso o nell'altro è indispensabile cioè uscire dalla rassegnazione o dalla ipocrisia rassegnazione o conformismo ecco questi sono i nemici della politica perché per uscire da rassegnazione e da conformismo occasioni di dibattito occasioni di partecipazione come il nostro piccolo abbiamo fatto questa sera sono fondamentali cioè bisogna che ci siano delle persone interessate che hanno fiducia nel fatto che gli esseri umani sono ancora capaci di autogovernarsi non sono tutti preda di poteri che li trascendono ecco questa è la mia la mia idea di fondo democrazia poi vuol dire questo a comandare siamo noi ecco attraverso i partiti attraverso il sistema parlamentare e quindi se siamo davvero democratici dobbiamo credere nella politica l'antipolitica non è democratica vogliamo concludere con queste parole che veramente sono molto belle come al solito credo che aveva dato la sintesi di questo bel dibattito caro Valdo per quanto mi riguarda io ti ringrazio moltissimo ringrazio te per la tua partecipazione ringrazio tutti coloro che sono stati collegati con noi che ci hanno fatto una grande quantità di domande che dimostra che insomma in certi momenti una risposta da parte della società c'è speriamo che questi momenti continuino grazie a tutti grazie a te grazie a tutti in bocca al Luca grazie e buonasera ciao